Proprio come avveniva da bambini, con le magiche gocce di mercurio che si moltiplicavano impossibili in una alterata geometria al rompersi il termometro e davano alla febbre una patina in più di irrialtà, il clima incomprensibile degli orologi molli. Un fenomeno simile riguarda la nostra anima. Ognuno in senso stretto è opera di infinite moltiplicazioni, di errori della specie, di conquiste sul puio. Un individuo è un'opera d'arte nel suo anonimato, una adarica mappa del tesoro tatuata sulla pelle delle genealogie e che lui stesso ha impressa a sangue e fuoco. Non c'è niente che non abbiamo ricevuto e niente che non diamo in eredità. C'è una ragione per sentire orgoglio in mezzo a questa febbre che non termina. Di un metallo pesante siamo custodi, lussuose gocce di mercurio amante. Al prossimo episodio